... e Alberto Bianco. Insieme a loro dovrei chiamare un amico un po' più di lunga data, un compagno di tantissimo battaglio, Roberto Contoglino. Grazie a tutti. Qui e non in un altro posto. Grazie a tutti. Qui e non in un altro posto. Non sei preparato mai abbastanza, ma sei pronto a sapere. La naturale conseguenza dell'essere nato. E' un pensiero che rende liquida la mente. Che ti fa sentire tutto e poi ti fa sentire niente. E' come fare un viaggio al centro della terra o sulla luna a ritrovare un senno nuovo. Come cambia il peso delle cose, il valore del venaro, della forza delle braccia, del pianto e del sorriso, del sombra e del risveglio, dell'aria che respiri. Di ritornare a casa, guarda il mio posto qui. Che bellezza appaglante. Che bellezza appaglia. 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 e devi toglierti dal cielo devi fare spazio dentro e poi dividere l'inutile da ciò che è necessario non c'è più giorno da perdere nel tuo calendario e poi insieme a me a ciò che non ti rappresenta di te finalmente perché chi viene a la luce ilumina grazie a tutti èissimo è importante è stato importante di ogni anni è molto importante un'altra per la prima 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.